Quattro regioni italiane riaprono le porte delle scuole superiori. Si tratta di Lazio, Molise, Piemonte ed Emilia Romagna. Questi circa 640.000 studenti si uniscono a quelli delle regioni Toscana, Valle d'Aosta e Abruzzo, che dall'11 gennaio frequentano in presenza al 50% e a quelli del Trentino, dove le scuole hanno riaperto il 7 gennaio. Intanto diverse regioni, tra cui Sardegna, Veneto e Friuli, Venezia e Giulia, si preparano a riaprire il primo febbraio. Ieri il CTS ha sancito che le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal DPCM del 14 gennaio e secondo gli esperti se qualche presidente di regione decidesse diversamente dovrebbe assumersene la responsabilità. Il lockdown iniziato a marzo e conclusosi a maggio ha fortemente ridotto le attività dei servizi di salute mentale in Italia. Durante quei mesi il 20% dei centri ambulatoriali è rimasto chiuso, mentre il 25% ha ridotto gli orari di accesso. È quanto si evince da uno studio della Società Italiana di Psichiatria pubblicato su BMC Psychiatry e presentato durante l'inaugurazione della prima conferenza italiana dei direttori di Dipartimenti di Salute Mentale. Nella prima ondata di coronavirus le visite psichiatriche e programmate sono state garantite solo per i pazienti più gravi, in molti casi sostituite da colloqui a distanza. In generale c'è stato un drastico calo di tutte le attività, dai consulti psichiatrici e ospedalieri, che hanno segnato un meno 30%, alle psicoterapie di gruppo. Sono stati sviluppati dei supercibi basati su proteine derivanti da microalghe. A creare questo nuovo prodotto alimentare sono stati gli studiosi della Flinders University di Adelaide, che hanno prodotto la sostanza base, che di solito si trova negli oceani, coltivandola in laboratorio, per poi manipolarla e crearne carni a base vegetale, gelatine, marmellate e creme spalmabili. Questi prodotti potrebbero costituire una valida risorsa per alimentare in modo sostenibile la popolazione mondiale. La produzione di clementine del 2020 è stata piegata dal maltempo. Su un valore di produzione totale di 170 milioni, le perdite sono superiori a 70 milioni a causa delle forti piogge che hanno compromesso la durata dei frutti, costringendo i produttori a scartarne il 50-60%. A tracciare il bilancio è Confagricoltura in occasione della campagna di commercializzazione dell'agrume, settore per cui è stato dichiarato lo stato di crisi e attivato un piano di interventi straordinari. Il periodo peggiore per le clementine è stato l'ultimo bimestre dello scorso anno, quando pioggia e umidità hanno favorito il crearsi di marciumi e hanno dunque pregiudicato l'ultima fase della campagna. Grazie a tutti.